Da 40 anni, Insieme Si Può, quest'anno tra l'altro festeggiamo il nostro quarantennale, ha sempre avuto un'attenzione sia per i paesi più poveri nel mondo che per le persone in difficoltà qui del territorio. Un aiuto a chi è lontano nel mondo senza tralasciare tuttavia l'impegno per i propri concittadini bellunesi. Questo l'operato che contraddistingue la ONG Insieme Si Può. Guardando la realtà locale ne è un esempio infatti il progetto La Povertà a Casa Nostra, che offre un sostegno alle famiglie in difficoltà della provincia dolomitica. Nel 2023 siamo accanto a 161 nuclei familiari per un totale di oltre 500 persone, prevalentemente famiglie con minori a carico ma anche altre situazioni di persone sole oppure donne vittime di violenza oppure persone malate. Queste famiglie sono famiglie del nostro territorio, copriamo circa la metà dei comuni della provincia e li siamo accanto per le necessità di base, quindi la spesa alimentare, le spese mediche, le utenze o gli affitti. Tutto quello che può essere utile per avere un presente di dignità ma anche un futuro di dignità. Quasi 100.000 euro il valore complessivo delle erogazioni effettuate quest'anno da Insieme Si Può. Grazie al supporto di Cortina Banca, una delle più longeve banche di credito cooperativo, casse rurali d'Italia, la solidarietà a favore di chi vive una situazione di disagio socio-economica si estende ulteriormente. Tutto il mese di dicembre infatti Cortina Banca sosterrà ogni donazione fatta sul nostro conto corrente con bonifico bancario raddoppiando l'importo, quindi ci permetterà di dare una mano doppia a queste famiglie. Una sinergia di intenti a beneficio della collettività. Sostenere un'associazione che aiuta veramente in modo molto concreto e in modo molto effettivo questa povertà che abbiamo anche nella nostra provincia per noi è un motivo di grande orgoglio e viene sostenuto con convinzione. Ringraziamo tantissimo per questo supporto perché per noi da soli non riusciremo a fare niente ma proprio insieme si può, non è solo il nome dell'associazione ma proprio un modo di lavorare e di stare insieme cercando le collaborazioni con il territorio.